Tentare l'impresa, ma è tra le favorite, laddove solo 12 mesi fa l'impresa è stata sfiorata dalla sorella Jessica. Tatiana Pieri ha grinte a carattere da vendere, nonostante i suoi 18 anni da poco compiuti lo scorso 29 marzo. Sentirsi maggiorenne a tutti gli effetti e provare a fare anche meglio di chi in famiglia pure ha fatto cose grege. Da lunedì Tatiana Pieri sarà impegnata nel torneo internazionale Juniores di Santa Croce sull'Arno, che gli addetti ai lavori, ma non solo, considerano il terzo in ordine di importanza dopo gli internazionali di Francia e il buon figlio di Milano. Tatiana si presenta in ottime condizioni di forma e sulla scia del successo al città di Firenze. Le credenziali e le qualità per far bene ci sono tutte, seppur nel panorama di un tabellone dove le avversarie saranno di primissimo piano. Una vetrina di giovani talentuose che magari fra qualche anno potremmo ritrovare vertici internazionali. Tra gli altri, Ecerri è scritto il proprio nome nell'albo d'oro anche un certo Andy Murray, annotazione doverosa anche sulla squadra di A2 del tennis club Lucca Vicopelago, di cui Tatiana Pieri è uno dei punti di forza assieme alla sorella Jessica, a Jasmine Paolini e a Giulia Remondina. Dopo l'ennesima vittoria, 3-1, sui campi del circolo tennis Maderno Monza, la squadra della presidentessa Paola Cecchini tornerà in campo domenica 21 maggio in casa contro il circolo tennis Nomentano Roma. Chiaro che un altro successo ed è nelle corde delle moschettiere lucchesi avvicinerebbe ulteriormente alla storica ed agognata promozione Nauno nel gota del tennis femminile italiano.